Grazie per essere venuti, comincia. Massimo. Buongiorno. Allora, nel calcio l'equilibrio non c'è mai, no? Sempre un'altalena. La Ternana è favorita prima dell'inizio del campionato, perde la prima partita in casa, è crisi, poi ne vince due, torna ad essere la favorita per il campionato. Se questo è vero, la squadra va dietro a questa cosa, spero di no e penso di no, giocare contro l'ultima in classifica, il rischio grosso qual è? È quello di dire, vabbè, ma tanto questi solutti non hanno vinto mano, non hanno un punto, noi la giochiamo tranquillamente. Credo che questa settimana, vorrei saperlo da lei, l'aspetto più complicato probabilmente è questo, dopo due o tre prestazioni importanti, far capire che ci vuole una prestazione importante anche per battere l'ultima in classifica. Ma penso, innanzitutto, che sia, non è retorica, non è una frase fatta, che sia una partita molto, molto complicata, nel senso che incontriamo una squadra nel momento sbagliato, perché arriva da tre gol presi in casa, da un periodo non positivo per loro, ed è una squadra che soprattutto ho seguito all'inizio, perché l'allena un mio ex compagno di nazionale, è una persona che stimo, e dove dentro le partite fa dei tratti di partita dove è veramente molto, molto pericolosa. E' la classica partita a tranello, è una partita dove, se non la affrontiamo con gli occhi di fuoco, con la voglia di far fatica, con la consapevolezza che bisogna far fatica per arrivare al risultato, di lottare, di sudare, di giocare per la squadra, ne usciamo con le ossa rotte. E questo dobbiamo fare in modo che non succede, che non succede perché, come gli ho detto ai ragazzi, è vero che nelle prime dieci partite non si vincono i campionati, ma è anche vero che nelle prime dieci si rischia di perdere i campionati. E quindi noi, siccome, credo che siamo molto obiettivi dentro tra di noi, un gruppo maturo, non andiamo dietro a quelle chiacchiere che ci vedono favorita, perché sappiamo realmente che non è la verità. È vero che dentro di noi non dobbiamo sentirci inferiore a nessuno, ma ci sentiamo detto a un gruppo di squadre forti, ma che è dove, vi ho sempre detto che i valori tecnici non vengono fuori se non si hanno dei valori morali alti, se non si ha una mentalità forte, se non si ha una rabbia e un'ambizione importante. Quindi noi dobbiamo cercare di stare insieme a quel gruppo di squadre, perché poi sento parlare tanto in giro, ma non si dice che l'Ascoli ha fatto 5-6 acquisti di categoria superiore, che il Perugia è una grande squadra, che la Spalla è una grande squadra, che l'Intel è un gruppo solido. Questo è un girone complicatissimo dove difficilmente ci sarà un ammazzo a campionato e ogni partita è una partita trappola. Quindi noi domani non vogliamo assolutamente cadere e per non cadere c'è da soffrire, abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno dei nostri tifosi e speriamo di fare una partita importante. Ciao. Buonasera, mister. È stata un'estate turbolenta, sicuramente. Non voglio parlare di questioni societarie, perché solo lei non ne parla, non voglio parlare dei singoli, però una domanda ci tengo a farla. È partito, come ha detto anche prima Massimo, con una sconfitta il campionato. Poi piano piano ci sono stati una serie di risultati utili. La squadra è stata fatta anche in costruzione, anche a ridosso poi del campionato. Le chiedo se ci sono dei giocatori particolarmente che vede ancora con del potenziale da esprimere o al contrario se c'è qualcuno che magari ancora ha bisogno di un po' di rodaggio. Ma assolutamente sì. Abbiamo tanti giovani con del potenziale che io aspetto e dobbiamo dargli il tempo di sbagliare, di assimilare. Primo anno che si affaccia in un campionato professionistico, molte cose. Stiamo imparando tante cose. Quindi solo con l'esperienza, stare a contatto con i grandi, si impara. Piano piano io sono convinto che arriverà il momento di tutti. Se loro continuano a lavorare con quella umiltà, con quella voglia di migliorarsi e soprattutto avendo pazienza perché poi il problema dei giovani d'oggi è che vogliono tutto e subito ma nella vita non si ottiene nulla scocchiando le dita. Quindi c'è bisogno di tanto lavoro per severare e arriverà il momento di questi ragazzi che hanno delle qualità ma che per fare il calciatore professionista non bastano. Ci vuole ben altro che loro stanno mettendo dentro come vi dicevo e quindi sicuramente abbiamo margini di crescita. Ciao, buongiorno. Aveva detto prima della partita con il Pineto che il turno non è una priorità cioè gioca chi sta meglio e quindi le chiedo chi sta meglio visto che diceva prima il collega che i giovani verranno al loro momento magari qualcuno che ha giocato di meno potrebbe essere arrivato al suo momento. Vediamo, vediamo perché in settimana mi sono venuti vari pensieri vedendo i ragazzi e poi come vi dicevo la cosa più complicata è ritrovare determinati equilibri e vediamo vediamo se lascerò a riposo qualcuno o no l'allenamento di oggi mi ha dato grosse indicazioni quindi nella mia testa ce l'ho ben chiara la formazione e quindi vediamo domani chi partirà dal primo minuto. Buongiorno mister faccio una domanda egoistica perché a me piace molto questa squadra anche quando cambia modulo la facilità con cui lo fa abbiamo visto varie soluzioni non due più di due nel corso della stessa partita tre volte le chiedo se forse siamo addirittura più avanti da questo punto di vista di quanto lei avesse programmato nella sua tabella a livello tattico ma ti dico per quanto riguarda con la palla è vero che abbiamo ampi margini di miglioramento nella padronanza e nel gestire la partita abbiamo ampissimi margini e per quanto riguarda la tenuta del campo con i vari moduli lavorando ve l'ho detto sui principi la squadra a me è molto avanti non riesce a riconoscere molto più facilmente le zone di campo ma non siamo così avanti cambiando i moduli nella fase difensiva a volte abbiamo l'idea che il difendere con i cinque sia un aspetto estremamente difensivista quando invece non è così la differenza è come interpreti i moduli quando giochi a cinque molte volte sei molto più offensivo se hai quel coraggio di andare a mordere alto ma andare a mordere alto poi significa che con gli altri della linea bisogna scivolare veloce di essere pronto a spaccare in avanti non devi stare nella tua zona di comfort aspettare gli avversari aspettare la palla lunga perché altrimenti si rischia su alcune situazioni dove imbucano troppo facilmente tra il quinto e terzo la linea si apre e ci abbassiamo troppo facilmente questo non deve succedere poi puoi difendere anche dietro linea palla con la linea 4 o una linea 5 dipende sempre dal momento della partita però credo che abbiamo molto più equilibrio in questo momento e molte più sicurezze con la linea 4 indubbiamente con la linea 5 ci dà alternative di sviluppi di gioco diversi ma poi anche lì dipende dalle caratteristiche dei giocatori dall'interpretare il gioco dipende domani è una partita molto particolare dove dipende come approccieremo la partita dobbiamo dobbiamo avere quella rabbia domani di non subire gol di non subire gol e loro faranno una partita credo orgogliosa perché non arrivano da un periodo facile giocheranno per il loro allenatore vogliono conquistare i primi punti e noi invece dobbiamo essere bravi a prenderla di petto prenderla di petto e dobbiamo dobbiamo avere un approccio un approccio feroce perché altrimenti la lampadina non si accende durante la partita e non si accende neanche 5 minuti prima noi dobbiamo essere già carichi domani mattina li voglio vedere con gli occhi giusti perché altrimenti non siamo con le ossa rotte ma questo sono le parole che ho detto che ho detto alla squadra dobbiamo dare dobbiamo dare continuità senza guardare la classifica dobbiamo dare continuità al nostro percorso trovare quelle sicurezze quell'alchimia tra di noi che poi vedete nei momenti di difficoltà della partita della stagione ti tengono a galla ed è uscita fuori l'anima della squadra nei momenti di difficoltà della partita di Pesaro grazie a te salve mister ecco dicevo appunto che lei ha in testa la formazione per capire qual è invece la situazione dei giocatori perché avevamo c'era Aloy che ha saltato le ultime partite quindi capire anche qual è la sua situazione e diciamo se c'è stato durante la settimana qualche altra situazione quindi se sono tutti regolarmente Aloy l'ho detto un paio di giorni fa che era da rivalutare tra 15 giorni quindi sta proseguendo col suo programma non è non è una roba diciamo di ripresa immediata e poi invece Crastev e Martella li stiamo ancora li stiamo ancora gestendo perché non non si sentivano sicuri sentivano sempre dei dei dolorini quindi senza senza rischiare hanno fatto tre giorni di differenziato non credo che siano disponibili per domani sperando di recuperarli per domenica ad Arezzo Mister buongiorno ciao buongiorno penso non sia presuntuoso dire che nella prima mezz'ora di Pesaro qualsiasi altra squadra sarebbe andata sotto la Ternana no perché ha dimostrato di avere tanto carattere soprattutto magari anche tanta solidità quindi le chiedo questa bolla che dicevamo la settimana scorsa sta reggendo forte nel senso che dall'esterno sembra che la squadra si sia veramente isolata perché comunque sono notizie che potrebbero anche influenzare un po' le partite da adesso in poi o da adesso fino alla chiusura di quella situazione societaria Sì sì hai fatto una constatazione giusta però siamo grandi e vaccinati quello che gli ho detto ai ragazzi noi facciamo dei sacrifici visto che tanto bisogna farli bisogna farli in modo massimale in modo corretto e quindi noi dobbiamo abbiamo il dovere di dimostrare il nostro valore sul campo indipendentemente dalle questioni extracampo ma proprio per amor proprio per noi stessi per i nostri tifosi per voi noi abbiamo una grande responsabilità ma io credo che questo gruppo poi potrà giocare bene potrà giocare male ma mi sembra che ha dato dei segnali importanti dal punto di vista dell'attaccamento alla maglia e noi e io lavoro insieme ai ragazzi per non far abbassare mai quel livello di cattiveria che magari nell'inconscio su una partita trappola può succedere e non deve succedere perché è una cosa che nella mia indole non accetto e mi avvelena questa cosa perché le partite valgono tutte e tre punti e domani noi a fine partita avremmo conquistato 0, 1 o 3 indipendentemente da chi è l'avversario e quindi se vogliamo vedere il nostro percorso senza guardare la classifica soprattutto in questo campionato dove le partite infrasettimanali ti possono dare slancio perché è difficile fare punti su tutti i campi abbiamo avuto la fortuna e la bravura di fare tre punti fuori casa e in casa deve diventare complicata per tutti complicata perché ho la sensazione che magari se prima non vincevamo in casa da quattro mesi poteva sembrare il giocare in casa come una non un'angoscia ma un avere un peso pesante giocare in casa perché magari vedevi la situazione sempre negativa e invece adesso io vedo la squadra consapevole deve diventare un punto importante di forza per la squadra venire a giocare in questo stadio deve essere complicato per gli altri e solo noi possiamo renderlo complicato insieme ai nostri tifosi insieme a voi quindi siccome tutti abbiamo un obiettivo comune tutti bisogna rimarrere dalla stessa parte poi vi ho detto i momenti di difficoltà ci saranno ma dobbiamo supportare questi ragazzi che stanno lavorando a testa bassa quindi come ho già detto io ho massima fiducia in ognuno di loro massima fiducia nel gruppo perché li vedo dei ragazzi responsabili ma non mi fido assolutamente della partita di domani domani voglio dare un approccio giusto grazie a te ciao buongiorno ciao una domanda sul centrocampo che potresti schierare domani abbiamo visto a Pesaro che l'inserimento di De Burr forse ha dato più sostanza ha chiuso più linee di passaggio la stessa cosa era successa secondo me nella partita precedente quando Romeo faceva un po' la mezzala si chiudeva stringeva la linea ecco stai lavorando su questa possibilità cioè di variare un pochino il centrocampo mettendo magari al di là di domani insomma una mediana 3 oppure continuerai col 4-2-3-1 che è il tuo marchio di fabbrica è una possibilità una possibilità ti dico la verità bisogna valutare poi le condizioni dei ragazzi perché è un reparto dove non siamo non siamo in tanti in questo momento con 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 l'infortunio di Aloy avendo Viviani fuori lista quindi bisogna trovare l'equilibrio giusto dipende se vorrò fare dei cambi davanti o no e decidere qual è qual è la strategia gara di come partire di come modificarla in corsa questo diventa diventa molto importante perché poi quando si prepara una partita bisogna bisogna prepararla nella propria testa se in caso facciamo gli scongiuri di andare sotto oppure se si va in vantaggio se bisogna far riposare qualcuno i pensieri sono tanti e nello stesso tempo di non cambiare troppo gli equilibri di una squadra perché poi fare troppi cambi non va bene quando una squadra trova un suo equilibrio puoi andare a metterci mano è complicato però ho la fortuna di avere ragazzi che mi danno risposte positive per atteggiamento per qualità per come sono entrati quindi questo è molto importante per me mi dà varie soluzioni indipendentemente da chi scenderà in campo indipendentemente dai moduli conta l'atteggiamento nostro conta l'ambizione nostra scusatemi se mi soffermo su questo ma per me è la parte molto importante la più importante noi domani siamo noi che dobbiamo prendere la partita di petto senza dar fiducia agli avversari perché indubbiamente quando vengono e affrontano la Ternana affrontano una squadra di Blasone tutti si gasano tutti vogliono dimostrare tutti vogliono mettersi in mostra e noi dobbiamo essere bravi a non dargli pensieri positivi nella loro testa devono capire che domani dal primo minuto è tosta fare punti qui ciao torno un attimo alla partita di pesaro per sottolineare due aspetti la prima questa esultanza del gruppo non solo in campo ma anche negli spogliatoi credo che siano delle testimonianze importanti lei in conferenza stampa disse qualche settimana fa è il gruppo che vince vincono i campionati non chi gioca meglio se non vado errato era questa e questo è il primo aspetto che credo sia importantissimo e lei l'ha sottolineato la seconda cosa lei non era particolarmente soddisfatta negli ultimi dieci minuti del match con la Vispesaro è stata esaminata analizzata che ne è venuta fuori poi le chiedo che cosa che teme di più che tipo di squadra è il Legnago no per quanto riguarda il gruppo sono stracovinto di quello che di quello che dici io penso che i campioni la gente di qualità ti fa vincere una, due tre partite ma non ti fanno vincere i campionati se dietro non c'è un gruppo solido compatto unito che ha lo stesso obiettivo dove si accetta di mettersi a disposizione della squadra ve l'ho già detto il pensare al noi e non all'io questo diventa diventa determinante tutti si devono sentire chiamati coinvolti e quando vengono chiamati in causa dare il loro contributo diventa un aspetto determinante per per una mentalità vincente di un gruppo per quanto riguarda la partita di Pesaro analizzandola è stata un po' diversa da come da come l'avevo analizzata subito dopo la partita perché rivedendola abbiamo approcciato molto bene i primi 15 minuti dove la vispesero non ci ha mai impensierito e dove noi eravamo in completo controllo del gioco e dove invece abbiamo sviluppato male dalla tre quarti in su con troppa fretta di voler verticalizzare quando invece si trovano le squadre che ti aspettano devi consolidare il possesso nella loro metà campo per cercare di riempire l'aria di andare sulle fasce di smuoverli da destra a sinistra e magari trovare combinazioni centrali questo dipenderà dagli avversari e invece poi per 25 minuti del primo tempo abbiamo sofferto e poi il secondo tempo quando siamo passati con una mediana a tre praticamente la squadra ha consolidato il gioco è stata padrona del campo quindi ha fatto un buon secondo tempo anche gli ultimi dieci minuti mi sono piaciuti per la voglia di non voler prendere gol poi alla fine abbiamo sofferto solo su un calcio di punizione di una mischia in aria dove ha fatto il doppio salvataggio Tito traversa salvataggio poi la vispesa non ha creato pressoché niente quindi sono contento di quella situazione che abbiamo vissuto perché sono situazioni importanti che ti compattano però è passato adesso domani abbiamo infrontiamo una squadra molto pericolosa dove hanno i due attaccanti molto bravi tecnicamente che sanno ripulire tante palle una squadra molto verticale e quindi è una squadra che nella nella battaglia si gasa e quindi noi non sappiamo come sarà la partita domani dobbiamo essere pronti sia da un lato a essere pronti alla battaglia ed è una squadra che possiamo mettere in difficoltà giocando la palla quindi dobbiamo essere molto puliti tecnicamente molto coraggiosi senza fretta e così cercare di portare la palla in zone di campo pericolose per cercare di riempire l'aria con tanti uomini perché sicuramente i cross e le preventive tenerli risa sarà un aspetto determinante della partita e cercare di prendere poche ripartenze ed essere molto molto attenti e trovare l'equilibrio giusto tra i difensori centrocampisti grazie a te grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti